Trio Stop Inetech, presente Amori sono le nove Le neve! Quando scocca l'ora della pensione e l'uomo lavoratore può finalmente fare del suo tempo e della sua vita quello che vuole Allora e solo allora Prendono vita gli interessi dimenticati, i sensi sopiti, i viaggi mai fatti E così l'uomo lavoratore alza felice il calice dicendo Dovrei fare un brindisi alle nostre fortune Antozzi va in pensione Giovedì alle 20.30 su Italia 1